Continuiamo con le nostre, chiamiamole così, conferenze. Io le ho chiamate dissertazioni intorno alla terapia del dolore perché voglio un po' prendere in esame, come già avvenuto nelle due precedenti, argomenti, chiamiamoli scottanti. Uno di questi, e lo chiariremo subito, è questo, la misura del dolore. Misuriamo il dolore, va bene, ma come? Questo è il grosso problema e mi ricordo questa bellissima statua che ho incontrato a Firenze quando ero andato per fare una conferenza nella piazza grande, come vedete, di Firenze c'era questa statua ed era intitolata il misuratore delle nuvole. Vedete quel metro con cui guarda il cielo e cerca di misurare le nuvole e mi è venuta in mente la misura del dolore. Cioè noi in realtà quando diciamo misuriamo il dolore, cosa misuriamo? Perché è questo che è il problema e cercherò un po' così di dissertare su questo argomento perché su questo argomento molte cose sono avvenute. Paolo Mantegazza era professore qui a Pavia nel 1831-1910, ha scritto questo libro sulla fisiologia del dolore, 1880, e un argomento specifico, l'algometro. Pensate, il nostro Mantegazza aveva immaginato uno strumento, dice, col quale si pizzicava la pelle con diversi gradi di pressione, era una campana di vetro, dentro cui aveva messo questo strumento. Finché nascesse il dolore, ma l'espressione del dolore è così diversa nei diversi individui e la tolleranza, attenzione, per uno stesso dolore varia nello stesso uomo a intervalli così brevi di tempo e per influenze così minime che ho dovuto rinunziare al mio algometro e all'algometria, credendo oggi impossibile la scientifica del dolore. E poi dice, se non c'è dato di misurare i gradi diversi del dolore, però possiamo trovare quali influenze tendano a renderlo più intenso. Quindi guardate che è un passaggio importantissimo. Poi c'è da rinvertirsi su questo perché, guardate, sarebbero invece circostanze che diminuiscono il dolore e la sensibilità ottusa, la bassa intelligenza, la razza bassa e infimo grado di inciviltà, poi purtroppo ha messo il sesso maschile, l'infanzia e la vecchiaia. Dall'altra invece, che sarebbero circostanze aggravanti del dolore, dice la squisita sensibilità, l'alta intelligenza, la razza alta e l'alto grado di inciviltà, il sesso femminile, la fanciullezza e la gioventù, l'uso e l'abuso dei caffeici. Quindi vedete che il Mantegazza si è dato da fare, ma alla fine ha dovuto indicare alla sua idea. Ma cosa ha fatto il Mantegazza? Ha fatto un'altra cosa interessante. Ha cercato e ha pubblicato questa successiva diapositiva, che adesso cercherò di far passare, in l'Atlante dell'espressione del dolore. Cosa ha fatto? Lui ha preso una serie di persone e lì torturava un dito dalla mano e poi leggeva dall'espressione del volto, voleva assolutamente ottenere un'algometria dalle espressioni. Sapete che questo volume l'ha concluso dicendo che la razza negra soffre di più della razza bianca. Va bene, è una sua espressione, ma c'è ancora questo libro nell'università qui di Pavia, l'ho trovato, questo bellissimo Atlante. Noi cosa facciamo? Noi lo misuriamo così, con queste tre possibilità, l'analogo visivo, chiediamo al paziente quanto dolore ha e segni con una croce tra nessun dolore e il massimo dolore, una scala 100 e poi col centimetro andiamo a misurare quanto dolore su 100 manifesta questa persona. Oppure quella molto più semplice, la numerica di 11 livelli tra 0 e 10 e diciamo quanto è, dio un voto, lo indichi, o dio un voto al suo dolore un po' ricordando i voti scolastici, che però attenzione sono l'incontrario, quindi uno sta bene a scuola quando piglia 8, ma sta bene quando il dolore è 2, quindi però spiegandoglielo si riesce. L'altra invece è la scala verbale, dolore, vedete, forte, molto forte, moderato, lieve, moderato, lieve, nessun dolore. Attenzione a non usare la parola severo perché è una pessima traduzione dell'inglese. Vediamo di fare un attimo un passo indietro. Alla fine quello che noi stiamo cercando di vedere nei pazienti, nella fisiopatologia delle persone che ha dolore è che una lesione, un impulso, cioè uno stimolo periferico, dà origine a un impulso, non dà origine al dolore, dà origine a un impulso, cioè ha una frequenza, cioè partono questi impulsi che sono con varie frequenze secondo l'intensità, secondo la tipologia. Queste frequenze, questi impulsi vanno a livello del midollo spinale, dove dal primo neurone passano al secondo neurone, la famosa trasmissione, dal secondo neurone salgono verso l'alto dove l'impulso viene elaborato, viene percepito ed elaborato e allora nasce il dolore. Quindi stiamo molto attenti a parlare di dolore in periferia. In periferia abbiamo gli impulsi. Il dolore nasce quando questi impulsi arrivano a livello del sistema nervoso centrale, cioè arrivano nel cefalo, quando comincia l'elaborazione di questi impulsi. Prima sono solo frequenze. Noi il dolore è una specie a modulazione di frequenza, vari tipi di frequenze, vari tipi di sensazioni. Bene, dobbiamo fondamentalmente distinguere che cos'è la nocicezione dal dolore. La nocicezione è tutto quello che avviene nella storia dell'impulso, da quando nasce in periferia a quando arriva alla percezione. Il dolore è quando dalla percezione viene elaborato e diventa dolore. Quindi sono due cose completamente diverse. Non lo dico solo io, qui siamo a livello della IASP, la nostra associazione internazionale, che ha ridefinito il dolore in questi ultimi mesi. E dice una sgradevole esperienza sensoriale ed emozionale, siamo tutti d'accordo, associata a o somigliante a quello associato a un danno tessutale effettivo o potenziale. Questo l'abbiamo già intuito. Noi abbiamo il danno, la lesione, o non abbiamo il danno, ma percepiamo il dolore prima di avere il danno. e guardate però sotto, non c'erano nella vecchia definizione, nella nuova, ci sono delle specifiche esperienze individuali, prima di tutto, assolutamente individuali, elaborata dal singolo, descritta da ciascuno in modo verbale e non verbale. Questa è una cosa molto importante. Poi, concorso di fattori biologici, psicologici e sociali, e lo vedremo il modello biopsicosociale, la nocicezione non è dolore. Cioè, la nocicezione esiste anche senza dolore ed è alla base di quella che è l'omeostasi, che è tutto il nostro sistema di regolazione autonoma. Il dolore non può essere dedotto solo sulla base dell'attività dei neuroni sensitivi. Attraverso la loro esperienza di vita, ogni individuo impara il concetto del dolore. Impara, non lo conosce all'inizio. Ha un ruolo adattativo, fondamentale, come opatica, proprio della nostra vita, senza dolore non potremmo vivere, con potenziali effetti contrari sul benessere però funzionale, sociale e psicologico. Può arrivare ad avere effetti contrari. Nell'ultima diapositiva della dissertazione precedente io ero arrivato a parlare di questo. Cioè, quale valore dare al numero indicato dal paziente? Quando chiediamo un paziente quanto dolore ha e lui ci dice 6, 7, 3, che significato dare? Il numero non indica, attenzione bene, la frequenza degli impulsi in arrivo, ma come quel paziente in quel preciso momento ha elaborato l'arrivo di quegli impulsi. Però noi prescriviamo farmaci in base a quel valore e questi farmaci per assurdo vanno a lavorare sulla nocicezione. Cioè noi chiediamo a un paziente quant'è l'intensità di un'esperienza, questo ci dice un numero, noi lo riferiamo agli impulsi. È qualcosa che non va bene. Misurare, da un punto di vista così concettuale, significa determinare il valore di una grandezza fisica con l'impiego di strumenti di misura. Noi vogliamo determinare il valore di una grandezza del dolore mediante gli impegni di strumenti. Ma pensate che fino adesso abbiamo continuato, stiamo continuando a usare gli strumenti veramente assurdi, intensità, acuto e cronico e come viene descritto. Cioè noi pensiamo di fare una diagnosi di dolore attraverso un'intensità. Il fatto che sia acuto o cronico o come viene descritto. Questo è nella quotidianità, viene questo. E questi tre fattori hanno condizionato poi anche la scelta delle cure. Cioè perché finché rimaniamo in un giudizio vago va benissimo, ma poi scegliamo delle cure. E questo è molto importante. Vediamo di analizzarne. L'intensità. L'intensità sulla parola intensità è nata la scala dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 1986. Nasce in quegli anni la scala. Ginevra rappresentava l'Italia, il professor Ventafrida, mio carissimo amico, che portava un desiderio, diciamo nasceva il desiderio di curare il dolore in tutto il mondo, paese sviluppati o in via di sviluppo, e di trovare un escamotario, un sistema per poter almeno somministrare analgesici e combattere il dolore. Bene. E si era proposta una scala. Chiamiamola scala. È un algoritmo. La prima versione della famosa Pain Ladder, che è la scala della WHO, era, vedete, una riga che saliva, diceva il dolore, iniziamo con i farmaci non opioidi, davanti a qualunque dolore, iniziamo con i farmaci non opioidi, gli antifiamatori, aggiungiamo più o meno gli adiuvanti, da cui c'era il cortisonico, il benzodiazepine, eccetera, gli antidepressivi. Poi se il dolore non è in modo soddisfacente controllato, passiamo a secondo livello, cioè agli opioidi minori, allora avevamo la codeina, anche adesso la codeina era l'elemento cardine del secondo gradino, più ovviamente portiamoci dietro agli antifiamatori, gli opioidi, cioè andiamo avanti con questa nostra, poi casomai li togliamo dopo, ma cominciamo, andiamo, e se no, se non basta, andiamo agli opioidi maggiori. Avevamo la morfina, allora c'era la morfina linfiale, c'era il fiseptone e altre cose, passiamo gli opioidi maggiori con gli adiuvanti e ci portiamo sempre dietro gli altri. Quindi era una specie di, come si può dire, di scala, ma una scala di potenza, di farmaci rispetto al dolore, ma qualunque tipo di dolore si partiva dall'inizio. Ok, questa era la scala, l'idea che era nata nel 1986, poi viene modificata. L'idea è stata modificata dopo la scala, esce negli anni successivi, nel 88-89, escono vari volumi sul Cancer Pain, in cui la scala viene trasformata in questa mega galattica scala tipo Vanda Osiris, in cui viene dato anche un valore, 1, 2, 3, si dice il primo gradino, il secondo gradino, il terzo gradino, da algoritmo, semplicissimo, cioè diciamo tutti i dolori e sta lì a chiedere quanto è. Cominciamo a lavorare, a dare un'analgesica, si dice no, attenzione, chiediamo al paziente quanto è il dolore. Se il dolore è lieve, gli diamo gli antifiammatori, se il dolore è un po' di più, è un po' più forte, vediamo se poi, è diventata la parola severo, ma perdonatemi, se il dolore è intenso, opioidi maggiori, ma non è mai stato detto questo. È venuto poi così, come abitudine, e diciamo così, forse chi lo sa, che chi ha introdotto questa idea di dire, ma diamo, l'intensità gestisce la terapia, scherziamo, cioè l'intensità gestisce la scelta di un farmaco. Questo è un po' un passo pesante che però tutt'oggi viene utilizzato. Al limite arriviamo a una situazione di questo genere, che è inutile mettere un terapista del dolore. Mettiamo una macchinetta come questa, invece del caffè, mettiamo i numeri della scala, numerica 0-10, il paziente schiaccia il suo numero e gli vengono fuori la miscela di farmaci, una miscela di farmaci così. È semplice, no? Non ci vuole un genio a chiedere quanto dolore hai e poi prescrivere questi farmaci, ci vuole solo uno che sa scrivere bene. Questo è un modello da evitare. Andiamo avanti poi, non c'è stato, ho scritto l'intensità, l'altra cosa è acuto e cronico. Anche questo fattore è stato determinante perché che il paziente ha il dolore cronico è diventato come un concetto generico, cronico inguaribile. Non si può fare niente, non si può più fare niente, è inutile andare avanti e contanto è cronico e allora cosa facciamo? Abbiamo delle scelte così terapeutiche, standardizzate, è inutile stare via a fare la diagnosi, cercare il meccanismo, è cronico, andiamo avanti. Questo ha portato anche in molte scelte terapeutiche di basso livello, perché è cronico, bisogna risparmiare, bisogna usare questo, bisogna usare quello. Il dolore è nostro, assolutamente, non è la via da seguire. Guardate cosa la IASP, mi faccio sempre riferimento alla nostra società internazionale, edita l'anno scorso, dà un'enorme identità al dolore cronico, dice esiste il dolore cronico. Guardate che importante, perché fino adesso non è mai stata definita la malattia dal punto di vista tassonomico, la malattia dolore cronico. La IASP la definisce e dice esiste questa malattia, esiste questa malattia quando il dolore per severa, per molto tempo, oltre i tre mesi, e questo tanti vanno avanti per tre mesi, dice attenzione, è associato a evidenti aspetti emotivi della sofferenza, ansia, paure, frustrazioni, depressione, ma aspetti evidenti, non sfumature o quanto è la depressione di uno che soffre per un po' di tempo. Qui entriamo in un quadro molto chiaro, o è evidente disabilità funzionale, interferenza dell'attività quotidiana nella vita, partecipazione ai ruoli sociali, cioè qualcosa che viene completamente disabilitante. Ema conclude con il terzo punto, che è determinante. I sintomi non possono essere associati ad altre diagnosi. Cosa vuol dire? Che prima di definire che un paziente ha il dolore cronico, dobbiamo escludere con una diagnosi accurata e non chiedendo l'intensità o altro, diagnosi accurata, che non ci siano altri meccanismi, o meglio, quello che noi dobbiamo cercare è se non esiste un'origine degli impulsi da livello periferico, perché se questi impulsi originano a livello periferico non sarà più il dolore cronico primario, ma sarà il dolore cronico secondario, come dice la Jasper, e dice allora dobbiamo andare a fare tutto un procedimento, un percorso diagnostico-terapeutico, tutt'altro, mentre in questo caso nel dolore cronico primario dobbiamo seguire ben precise caratteristiche terapeutiche. Capite la problematica, quindi attenzione alla parola cronico, come ho detto prima l'intensità cronico, va attribuito alle persone veramente con dolore cronico primario. L'altro problema che ha condizionato è il famoso neuropatico non cicettivo. È un dilemma, un dilemma che ha condizionato e condizionato tuttora, molti colleghi, questo dolore sarà neuropatico non cicettivo, come se fossero veramente bianco e nero. Non è sempre bianco e nero, ma attenzione, questo dilemma cosa è successo? Che è difficile, cioè bisogna applicarsi per definire se è un dolore nocciativo o neuropatico. Bisogna applicare dei grading, delle valutazioni di tipo bedside o di tipo neurofisiologico, prima di dire che un paziente ha un dolore neuropatico. Cosa è successo negli ambulatori tradizionali? Misto. Nel dubbio obletico ha introdotto questa nuova parola, misto, dolore misto, ma non esiste il dolore misto, o è uno o è l'altro, o esiste una condizione clinica in cui sono presenti tutte e due. E cosa è successo? Che alla fine, visto e misto, hanno fatto questa ricetta miracolosa. Non è su un opioide, più un antifiammatorio, meglio su un cortisonico, un antidepressivo, un gabapentinoide e poi ho scritto un pizzico di speranza. Ma non siamo a livello di combinare farmaci in questa maniera, non si combinano così i farmaci. E non è questo il modo di andare avanti. Cambiamo, questa diapositiva è categorica, cioè dobbiamo uscire se vogliamo fare della terapia del dolore. Attenzione, io parlo sempre da un punto di vista di un medico che lavora all'interno di un centro di terapia del dolore. Non può andare avanti a prescrivere farmaci in base all'intensità, in base al fatto che sia cronico, in base al fatto che abbia dei dubbi tra non eccettivo e neuropartico. Noi dobbiamo arrivare a delle conclusioni diagnostiche precise e dire che questo paziente deve assumere questi farmaci. Perché? 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 Cambiamo e la prima cosa da cambiare è la diagnosi. Non ha senso andare avanti con la diagnosi basata sull'intensità. Studiamo la nocicezione. Abbiamo i farmaci che vanno a lavorare sulla nocicezione, dobbiamo studiare la nocicezione, andare a vedere qual è il tessuto leso, quali sono i meccanismi fisiopatologici e quali sono i fattori di stimolazione. E questo ormai è fondamentale. Non possiamo pensare di seguire altri percorsi. La IASP, vi sempre faccio riferimento, la IASP ci dice dobbiamo capire una medicina nuova, cioè dobbiamo cominciare a studiare la clinica. Il profilo sensoriale, cioè i segni e i sintomi di questo paziente, studiamoli. Andiamo a vedere le comobilità psicologiche presenti, andiamo a vedere tutti gli aspetti fisiopatologici con la neurofisiopatologia, poi addirittura entriamo anche nel profilo molecolare, ma questo è il futuro. Per adesso non siamo ancora a questo livello. Ma lì vedete come il percorso clinico deve essere svolto. Non si può, in cinque minuti, impostare una terapia. Bisogna seguire questi percorsi. Poi pensare che esiste il modello biopsicosociale, cioè che alla fine, quando questi impulsi arrivano a livello delle strutture encefaliche, l'impulso diventa dolore e sofferenza. E poi il comportamento reattivo. È chiaro che alla fine noi vediamo anche i comportamenti, ma il problema è il dolore e la sofferenza. E questo è il modello. Sempre la Pain pubblica questo bellissimo grafico che è il modello biopsicosociale, dove ricordiamoci che nel dolore ci sono fattori in alto dato biologici, la severità della malattia, la nocicezione, l'infiammazione, le funzioni cerebrali, dall'alto ai rispetti psicologici, l'umore, gli affetti, il catastrophizing, lo stress, il coping. Guardate che il catastrophizing, ormai è entrato il test del catastrophizing nella quotidianità, andare a vedere qual è la visione negativa della vita di questi pazienti, come questi pazienti vogliono collaborare con noi, che stress stanno vivendo. E alla fine i fattori sociali. I fattori sociali che sono culturali, l'ambiente sociale in cui vivono, i fattori economici, il supporto sociale di queste persone, perché tutto questo va a configurare quella che noi abbiamo definito all'inizio l'esperienza dolore. Io vi introduco queste immagini, perché sono veramente significative. Vanno proprio a definire questo concetto di esperienza. Allora, in basso, vedete, io l'ho messo il fattore sensoriale discriminativo, cioè il sistema sensoriale nocicettivo, cioè la nocicezione, cioè gli impulsi. Arrivano questi impulsi e informano l'individuo della intensità, della estensione, della localizzazione, della durata e della qualità dello stimolo. Arrivano queste frequenze. Queste frequenze danno queste informazioni. Pensate che complessità. Quando sono codificate, state attenti che nel dolore neuropatico non sono così codificate, per cui la lettura è già più difficile da questa parte. Queste informazioni costituiscono il fattore sensoriale o sensorio discriminativo che risveglia l'individuo. Diciamo svegliati, ti stai facendo male e dirotta le sue risorse attenzionali, quindi immediatamente prestiamo attenzione allo stimolo che diviene allora prioritario su tutte le attività in corso. Difatti noi immediatamente ci concentriamo su quello stimolo che sta arrivando. Il dolore motiva quindi le reazioni di difesa e di fuga immediate. Questo è il concetto proprio della risposta allo stress, di fuga o di aggressione, cioè o scappi o combatti. Questo è immediato, però è al di sotto di ogni percezione. Prima e subito rispondiamo anche con i sistemi di modulazione e vedete che si introducono i flessi somatomotori e reazioni neurovegettative. Studiamo, ma soprattutto voglio sottolineare che partono anche dei sistemi di inibizione che ci sono, discendenti. Seconda fase è l'aspetto affettivo motivazionale. Questo è accompagnato da un sentimento sgradevole che rinforza la motivazione e l'azione, altrettanto importante per la sopravvivenza dell'individuo. Cioè questo è il concetto di sgradevolezza. Parliamo della cingolata. Qui mettiamo proprio nel... viene a cogliere il concetto che è sgradevole questa cosa, non è solo discriminata, è proprio sgradevole. Questa componente indissociabile e interdipendente dall'esperienza soggettiva costituisce il fattore affettivo motivazionale. Cioè proprio veniamo colti nella parte proprio più profonda, più affettiva e emozionale di noi. Fattore cognitivo. I fattori sensoriali e affettivi sono interpretati. Vedete? All'interno del contesto presente dell'esperienza passata e delle proiezioni nel futuro, desiderio e attesa, attraverso codici e significati che permeano l'ambiente socio-culturale. Insieme di questi trattamenti centrali dell'informazione, perché ovviamente è un trattamento dell'informazione sensoriale ed emozionale che costituisce quello che viene chiamato il fattore cognitivo della percezione. Quindi vedete come è complesso questo sistema. Ora, quando noi chiediamo al paziente quanto ha dolore, noi andiamo a chiedere questi fattori. Andiamo a chiedere, ma come sta vivendo l'esperienza che sta provando per colpa di una serie di impulsi che magari non arrivano al suo cervello? Questo è il fondamentale. Ed è questo quello che ci spinge certe volte a stare molto attenti alle prescrizioni, ma soprattutto a quello di instaurare una relazione di aiuto col paziente. L'empatia, la relazione col paziente è fondamentale, perché già con quella possiamo già togliere una quota di intensità del dolore. fattore sensoriale discriminativo, fattore effettivo e motivazionale, fattore cognitivo, sono i tre fattori che si influenzano vicenda, oltretutto per elaborare una proprietà emergente nel sistema nervoso centrale che è l'esperienza soggettiva di una percezione di dolore. Questa è la realtà di cui noi dobbiamo tenerne conto. Il paziente quando vi chiede aiuto e la vostra domanda è ovvia, ma quanto dolore sta provando? Io la prima cosa che chiedo non è mai quanto sta provando dolore quel paziente, ma perché sta provando dolore. Questo è importante, non quanto. Perché? Perché questo è determinante. E allora devo aiutarmi, devo cercare di arrivare a capire anche che cosa. E se vogliamo allora la IASP stessa ci dice nel 2019 basta l'intensità, cioè cerchiamo anche di capire qualcos'altro di questo paziente, non solo l'intensità, e propone una dimensione a 3D, cioè a tridimensionale di valutazione. Va bene, l'intensità chiamiamogliela, chiediamogliela, dove è scritto lieve, moderato, intenso, ma attenzione, dolore e sofferenza. Quanto il dolore influisce sull'aspetto psicologico, cognitivo, comportamentale ed emozionale? Lieve, moderato, intenso. Cioè capire quanto influenza, cioè quanto è il dolore e la sofferenza, ma solo anche la disabilità, cioè come interferisce questo dolore con l'attività della vita quotidiana? E quindi lieve, moderata, grave. Quindi vedete che comincia una valutazione più complessa del paziente che già Fordeis avrebbe chiamato come l'interferenza con la vita, cioè quant'è l'interferenza del dolore con la vita, in senso lato, perché questo è il concetto. Quanto dolore e quanta disabilità, quanto dolore e quanta sofferenza prova questa persona. Questo potrebbe già essere qualcosa di più di chiedere semplicemente l'intensità. Ma ricordatevi, che l'ho detto anche prima, non è questo solo l'obiettivo. Cioè non possiamo solo basarci sul fatto di quanto soffre, ma perché soffre. Cioè questo è un altro problema. L'altra cosa dice, la JASP dice sempre, attenzione agli aspetti temporali, se è continuo episodico o continuo esacerbazioni ci sono, e poi fattori psicosociali. Esiste la possibilità che possono influire sull'origine il mantenimento, eserbazione del dolore sul grado di disabilità e siano tali da generare comportamenti psicologici, come vedete, cognitivi, emozionali, comportamentali e sociali. Cioè cominciare a abbandonare solo quel concetto di intensità, entrare più in un concetto di dolore e di sofferenza. Però ricordatevi che la diagnosi è fondamentale. Terzo il trattamento, a questo punto scegliere il trattamento opportuno. Abbiamo già dei dati, abbiamo la diagnosi, sappiamo perché il dolore nasce, sappiamo il paziente come sta vivendo, che esperienza sta vivendo di quel dolore e allora gestiamo un trattamento. Ma il trattamento deve tenere conto di vari livelli. Io posso gestire, agire sull'origine delle afferenze. Perché no? Un farmaco antinfiammatorio mi toglie l'infiammazione del mio dente. Ma, attenzione, posso anche agire, ad esempio con la cifoplastica, andando a cementare una vertebra mi toglie la partenza, un disco intervertebrale, intervengo sul disco, tolgo quelle che è la lesione, cioè il fattore di partenza, lo stimolo. Se tolgo lo stimolo è chiaro che si esaurisce tutto. Oppure posso modulare le afferenze. Non posso togliere lo stimolo. Sono stimoli che hanno un'origine complessa. È chiaro che vado a modulare la neurostimolazione, le radiofrequenze, tutto quello che volete. Ma andiamo a modulare sempre la narcicezione. Terzo punto. Possiamo agire sull'interpretazione e l'elaborazione delle afferenze? Perché questa è la sfida, la sfida che dobbiamo correre, andare avanti. Possiamo, attraverso terapie cognitivo-comportamentali, possiamo anche attraverso dei meccanismi di stimolazione. Si parla a certe volte della TDCS, stimolazione trascranica, che va a livello della corteccia cingolata anteriore a modificare la sgradevolezza. Possiamo trovare farmaci. E qui è difficile trovare farmaci che agiscono su questi concetti di elaborazione. non li abbiamo, pensate, non abbiamo niente ancora. Forse ci saranno in futuro, speriamo, farmaci che possono agire a quel livello. Però attenzione che dobbiamo poi certe volte incorrere nell'addormitare il paziente, cioè negli effetti collaterali che possono essere da sonnolenza o d'altro. Questa è la sfida, cioè quando voi volete curare, non curate solo l'intensità, ma curate tutto questo. E poi, altra cosa importante, non pensate di una visita con un farmaco di risolvere il problema. La continuità delle cure. Cioè questi pazienti funzionano sia all'interno di una relazione d'aiuto permanente. Ovviamente vi può andare bene una volta, anche con un farmaco risolvete il problema. Ma attenzione, perché nella maggior parte dei pazienti esiste proprio una continuità di un bisogno. Non esiste solo la soluzione istantanea. E questa continuità molte volte la vediamo quando mettiamo i neurostimulatori e questi pazienti tornano e dicono, per un po' vanno bene, eccetera, eccetera. Poi tornano e hanno un altro problema, ma per loro un altro problema è collegabile al primo, per cui vengono, abbiamo messo a posto tutte le neuropatie degli arti inferiori, poi vengono con dolore alla spalla e dicono che lo stimolatore non funziona più. Ma non funziona. Non funziona perché lo stimolatore non è che toglie tutto il dolore. E qui bisogna continuamente seguirli, andare dietro, cercare di capire perché. Perché la maggior parte dico sempre che molte volte non abbiamo il dolore cronico, ma abbiamo pazienti cronicamente affetti da dolore, da vari quadri di dolore. E questo impone una continuità delle cure. Non demoralizzarsi se il paziente continua a tornare perché non dice, ma continua a tornare perché non è risolto. No, no. Continua a tornare perché certe volte ha bisogno ancora di una relazione di aiuto, non di farmaci. Ha bisogno proprio di condividere l'esperienza che sta vivendo. E concludo con questa diapositiva che è un po' la diapositiva che riporta due punti di forza di quello che sto cercando di fare. Di curare, di fare ricerca, di fare formazione e di creare delle community. Di community di persone che vogliono lottare insieme per la terapia del dolore. La prima in alto è il nostro sito del centro di terapia del dolore della Maugeni di Pavia, Pavia Pain School, dove trovate quello che facciamo, chi siamo e le tecniche che utilizziamo. L'altro invece è il ceoformazione, è la sede culturale dove cerchiamo di fare formazione, dove cerchiamo di portare tutto quello che è la nostra esperienza in forma di FAD, di manuali e di altro. Questo è un po', insieme a queste dissertazioni, è la mia voglia di cercare di cambiare un po' la terapia del dolore in Italia. Grazie. Grazie. Grazie.